La realizzazione del primo anno, della prima fase, del progetto Erasmus Plus Art for All, che è un progetto che guarda all'accessibilità del patrimonio culturale del proprio paese. Il progetto è in collaborazione con altri paesi europei, con scuole partner, della Bulgaria, del Belgio e del Portogallo. Abbiamo già visitato i loro paesi e loro stanno facendo quello che i ragazzi del liceo Mengaroni stanno facendo sul territorio pesarese, e cioè selezionare uno o più elementi del patrimonio culturale per innanzitutto nella prima fase studiarne l'accessibilità e da adesso in poi creare una serie di strumenti quali esempio di potenziamento dell'accessibilità e dell'inclusività del artefatto culturale scelto. E' una situazione che ci permette ora di avere una mappatura pensata proprio dagli studenti in base a tutti i vari tipi di accessibilità di cui secondo il loro punto di vista e secondo anche gli standard europei che hanno studiato necessitano i nostri musei. In particolar modo è stato fatto un lavoro sui musei civici con un focus sulla Pala di Bellini e sulla Medusa di Mengaroni che sono due degli elementi simbolo. e ora, pur anche riscontrando quanto già era stato fatto dal punto di vista dell'inclusione e dei vari tipi di disabilità, c'è un percorso fattivo che stiamo seguendo assieme per poter migliorare sempre di più la pratica dell'accessibilità estendendola a tutti gli ambiti, compreso anche l'inclusione economica, l'inclusione sociale. Noi siamo gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni e facciamo parte del corso internazionale. Questo corso ci ha dato l'opportunità di fare molti viaggi e scoprire molte cose che non sapevamo. Questi viaggi li abbiamo potuti realizzare grazie a dei progetti Erasmus che sono molto validi per l'apprendimento di noi ragazzi.